Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere assieme che cos'è il progetto EOS lanciata tramite una ICO nel 2017, tornata un po' sulla bocca di tutti anche se prima è passata in un lungo lungo momento buio e nel dimenticatoio di molti, è tornata sulla bocca di tutti per una notizia che è stata pubblicata esattamente ieri. Andiamo per prima cosa a riportare la notizia scritta da criptovaluta.it e successivamente andiamo a vedere il funzionamento di EOS cosa promette ai suoi utenti e ai suoi utilizzatori cercando di capire se potrebbe tornare alla ribalta, ovviamente dopo la sigla. Colleggevi la notizia scritta il 17.8 da Gianluca Grossi di criptovaluta.it Alla fine ci siamo, il protocollo blockchain EOSIO Forca si rinomina e spinge in alto il valore del token, il migliore di una giornata non entusiasmante per tutto il mercato delle criptovalute e di bitcoin. Questo ovviamente non il dato odierna ovvero 10.8 ma in data 17.8 ci tengo a sottolinearlo. Fork della codebase di EOSIO 2.0 che è partita da quattro protocolli basati proprio su questa blockchain e che ha visto una partecipazione fattiva della community. Quanto di meglio ci si potesse aspettare da EOS con una separazione da Block One che i mercati hanno salutato, come è visibile a tutti, con grande entusiasmo. Vincono dunque quelle della fondazione che si riprendono in mano lo sviluppo di ciò che conta nel mondo di EOS e liberando l'intero protocollo da quello che in molti ritenevano essere un abbraccio mortale di Block One. Con la possibilità che ora si torna a fare sul serio anche per cercare di cormare il gap con le altre blockchain che negli ultimi mesi e anni sono andate avanti in modo decisamente più concreto. Dalla finalità più rapida alle SDK per i wallet passando per il call sincrono e le librerie per le smart contract. In realtà di canna al fuoco ce n'è tanta, compresa la compatibilità con EVM. Ora sarà la fondazione che ha confermato di aver fatto incetta di specialisti sul mercato, mantenere le promesse, promesse che se mantenute potrebbero riaprire la partita anche per EOS, protocollo che in molti dei nostri lettori avevano forse dimenticato. EOS Foundation Network, raggiungibile all'indirizzo eosnetwork.com. We are consensus. I veterani della blockchain e delle criptovalute si ricorderanno il 2017. Tra tanti fattori immemorabili anche la ICO, o la ICO, come dir si voglia, di EOS. Per molti di voi, anzi per quasi tutti noi, quello che starete per sentire, oggigiorno è un'ovvietà ed è una consitudine. Ma nel 2017 questa infrastruttura era tra le più promettenti e all'epoca veniva nominata per la prima volta e tira un killer. Come detto poc'anzi è un token messo in circolazione dopo una ICO nel 2017, nata dalla mente di Dan Larimer, fondatore tra le altre cose di BitShare, che decide di creare un'infrastruttura di servizi per lo sviluppo e autenticazione di nuove DAP, le applicazioni decentralizzate. Una prima versione è avvenuta circa il 14 settembre del 2017, mentre la prima versione ufficiale, la prima release, è stata rilasciata nel 2018. Il protocollo IOS, la piattaforma IOS, consente la creazione per l'appunto di applicazioni decentralizzate, in modo molto sicuro, efficiente e completo, con un ottimo livello di privacy. Il protocollo di consenso usato da IOS, la DPOS, ovvero il Delegate Proof of Stake, che pur non usufruendo del mining, va a garantire un'elevata sicurezza della rete e assicura un'approvazione continua e scalabile della blockchain. Si considera come tempo di esecuzione per una transazione 25 millesimi di secondo. Capite bene che all'epoca, nel 2017, un progetto del genere è risultato veramente, veramente ambizioso. Nel momento della prima release, secondo il CEO di Block One, sono stati investiti più di un miliardo di dollari per lo sviluppo di IOS. L'obiettivo di Dan era, sostanzialmente, costruire e lanciare una piattaforma smart orientata completamente al business, dove, nel suo modo ideale, le società e le imprese potessero essere collegate e che consentissero transazioni, sempre tra di loro, molto veloci. Una grande novità che introdusse nel 2017 è l'utilizzo delle token IOS. Infatti, normalmente, tantissime reti decentralizzate richiedono ai propri utenti di andare a spendere un token della piattaforma o dei token specifici per poter utilizzare le risorse della rete messe a disposizione. IOS era diverso perché andava ad incentivare gli utenti a detenere il token IOS. Infatti, solo i possessori del token IOS sono in grado di utilizzare la rete, creare ed eseguire applicazioni decentralizzate. Addirittura, se un utente non andava ad utilizzare le funzionalità della rete, poteva facilmente andare a prestare la propria larghezza di banda ad altri che desideravano utilizzare EOS IOS per creare delle app su blockchain. Nel gennaio 2018, EOS è stato lanciato con un codice open source, che ovviamente ha permesso a tantissimi programmatori di sfruttare il potenziale di questo blockchain. Col senno di poi, l'unico contro è che con queste caratteristiche si è trasformato in uno sviluppo di una community particolare, ovvero di Block One. IOS è molto simile ad Ethereum per quanto riguarda la creazione di applicazioni decentralizzate e smart contract. Anche se IOS ha dei vantaggi rispetto ad Ethereum, ovvero fornire degli account con sistemi di autenticazione e database, comunicazione asincrona tra nodi, è molto molto più scalabile. Al suo interno, andando a bloccare i token IOS per generare potenza, va a eliminare le fee e le commissioni. Ha un sistema di aggiornamento molto semplice e un registro completo degli errori per andare a lavorare su di essi. La rete può produrre un blocco circa ogni 5 secondi con un batch di 130 blocchi ogni volta circa. E come ho detto prima, una transazione può essere avviata, può essere considerata confermata con certezza 0.25 secondi dopo l'emissione sulla rete. Ha implementato un algoritmo di tolleranza agli errori bizantini asincroni, quindi la BFT, per cercare di ottenere l'irreversibilità delle transazioni molto più rapide. Infatti, questo algoritmo, l'algoritmo ABFT, va a fornire una conferma del 100% dell'irreversibilità in un secondo. Rispetto alla blockchain Ethereum, per programmare su Ethereum era necessario studiare un linguaggio di programmazione che non tutti i programmatori e gli sviluppatori conoscevano, ovvero Solidity. Per quanto riguarda IOS, i programmatori possono sviluppare applicazioni decentralizzate utilizzando linguaggi di programmazione come ad esempio C++, Java e Python. Invece di andare a studiare un nuovo linguaggio di programmazione, quindi anche questo, poteva aiutare e poi aiutare la crescita di IOS. Per quanto riguarda brevemente il funzionamento per lavorare su questa blockchain, su questa piattaforma, gli sviluppatori devono avere un accesso a diversi tipi di risorse, ovvero la risorsa di calcolo, la larghezza della banda e la memoria. Molto simile alla CPU e allo spazio disco RAM di un computer che usiamo tutti i giorni. La potenza di calcolo è necessaria per eseguire un'applicazione decentralizzata, mentre la larghezza di banda è necessaria per inviare dati attraverso la rete. Per avere potenza di calcolo e larghezza di banda bisogna andare a bloccare negli smart contract specifici i token IOS tramite dei portafogli che permettono questa interazione. Per quanto riguarda la governance, il protocollo offre ad ogni utente che detiene il token IOS la possibilità di votare sulle decisioni e sui produttori di blocchi. Concludendo questo breve video, EOSIO è stata una degli ICO più grandi, che era a raccogliere oltre 4 miliardi di dollari. Nel corso di una vendita che è durata praticamente un anno, emettendo in vendita circa un miliardo di token IOS. E ad oggi, dopo la notizia uscita sui profili Twitter e riportata dalla rivista criptovaluta.it, occhi puntati su questo protocollo. Ovviamente, come sempre, questo non vuole essere un sollecito all'acquisto o all'investimento, ma, come dico sempre, tenetela nei preferiti. Monitorate il sito internet della IOS Network Foundation per andare a scoprire le novità che andranno a implementare i loro profili social come Telegram e Twitter. Non fatevi prendere dalla fome in questi casi, ma tenete a monitorato il progetto, che non si sa mai. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale e adonirevi anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!